2,7 miliardi di entrate in meno per i comuni da tributi e tariffe nei primi quattro mesi del 2020. Questi i primi numeri elaborati da SIOP e Sistema Informatico del Ministero dell'Economia e Finanze. E se questo è solo il primo quadrimestre, sottolinea Anci Lombardia, significa che su base annua siamo vicini allo scenario peggiore che avevamo ipotizzato in un range di perdite che oscillava fra i 4 e gli 8 miliardi. Anche in Valtina Valchiavenna si stanno elaborando i possibili scenari e le proiezioni sono dominate dal segno meno. A Sondrio si prevedono minori entrate per il 2020, nell'ordine di 1.300.000 euro, una stima che tiene conto della contrazione di diverse voci, dall'addizionale comunale all'IMU, dalla tasse di soggiorno al canone di occupazione suolo pubblico, dalla Tari alle minori sanzioni per infrazione del codice della strada. Durante il lungo lockdown circolavano infatti pochissimi mezzi e i parcheggi pubblici erano gratuiti. Il 2019 si è chiuso con un avanzo di 1.800.000 euro, spiega Ivan Munarini, assessore al bilancio del Comune di Sondrio, dato sicuramente positivo. Pesano su questo esercizio 2020 le previsioni di minori entrate, stimate per l'appunto in 1.300.000 euro, ma abbiamo messo a disposizione i restanti 500.000 euro per sostenere le attività che hanno subito gli effetti del lockdown. Molto importante in questa fase, sottolinea Munarini, il contributo regionale di 700.000 euro destinato a opere pubbliche subito cantierabili. Azzerare i costi di occupazione di suolo pubblico per le attività che metteranno più tavoline all'esterno, compensando così la deduzione di posti a sedere dentro il locale necessaria per il rispetto delle regole anticontagio. In settimana verrà emessa la delibera, anticipa il sindaco di Tirano, Franco Spada. Difficile al momento fare previsioni sulle minori entrate 2020, aggiunge il sindaco, ma posso dire che quest'anno la protezione dei cittadini e delle imprese sarà la priorità. Il bilancio consuntivo 2019 si è chiuso con un avanzo di circa 1.350.000 euro. Abbiamo un basso indebitamento e una buona disponibilità di cassa, tutti elementi positivi soprattutto in questa fase. Il 97% delle entrate, prosegue il sindaco di Tirano, arriva dai cittadini e a loro devono tornare con provvedimenti in grado di sostenerli concretamente.